questo non voglio che registe come non voglio è il modulo AIIB questo è il modulo AIIB e là sotto c'è l'autoscala non so se si vede ma è un modulo AIIB è crollato il ponte è crollato il ponte oddio è crollato il ponte è crollato c'è il modulo AIIB pure la polizia pure la polizia questo non si ferma questo con il modulo AIIB il modulo AIIB da sotto c'è l'autoscala guardate mi tremolano le mani non riesco a riprendere vabbè raga questo è un saluto dal modulo AIIB e ciao ecco modulo AIIB modulo AIIB e autoscala ecco lì l'autoscala ed ecco il modulo AIIB è un saluto è un saluto è un saluto e non riesco a riprendere perciò è un saluto è il Magirus non è un Magirus o è uno Stralis no i lampeggianti attivi non le sirene eccoli dai dai vai raga l'APS no non c'è l'APS vai grandi raga tonto per voi ragazzi sono qua aspetta firmiamo un po' l'autoscala che è qui tu firma l'autoscala e io la AIIB dov'è? non lo so non lo so ah sta uscendo l'APS sta uscendo l'APS raga l'APS l'APS oddio sta uscendo l'APS l'APS sta uscendo è uno Stralis un Volvo è un Volvo è un Volvo qua c'è la AIIB qua c'è la AIIB è un Volvo l'autoscala non è no non è uno Stralis è un Volvo è un Volvo è un Volvo eccolo 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 ecco raga ecco ecco ma stanno mettendo le sirene spero di sì perché almeno li firmiamo in sirene ecco 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 il pompiere paura non le ha il pompiere paura non le ha dai 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 vieni 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 ecco è finita è è finita è finita ecco ecco berservi biciclyb cri chiamate è Seattle una mangianza ragazzi come con un anny